E' fermo a quota 3 il numero dei marchigiani risultati positivi al test per il coronavirus. Si tratta di un trentenne di Vallefogli, attualmente ricoverato a Torrette in buone condizioni nel reparto infettivi, e di una coppia di coniugi fanesi, entrambi ricoverati in gravi condizioni agli infettivi di Pesaro. La donna, in particolare ultratantenne, si trova in rianimazione. Da una ricostruzione dei loro movimenti potrebbero essersi infettati dopo la visita di un parente proveniente da Milano, avvenuta un paio di settimane fa. Intanto il primo pensiero è di incoraggiamento e di vicinanza a queste persone, alla signora in particolare, che sta avendo delle complicazioni. Però anche su questo vorrei in questa fase tranquillizzare, perché tutte le autorità sanitarie stanno facendo il loro lavoro, cercando di... hanno isolato con tutte le quarantene opportune, quindi è tutto sotto controllo. Si tira invece un sospiro di sollievo a Pian di Meleto, dove è risultato negativo il cittadino sottoposto al test. A renderlo noto in un comunicato su Facebook, il sindaco del comune del Pesarese, Veronica Magnani. Stesso esito anche sugli esami a cui sono stati sottoposti due casi sospetti registrati nel Piceno. Un trentenne di San Benedetto e una donna di Monteprandone. Entrambi sono risultati negativi al coronavirus. Grazie a tutti.